Bene, dopo aver pulito bene tutte le erbacce, le spine, tutto quello che c'era, ecco il risultato, vedete. Di sotto è che fare una bella pulita per terra, ci fermiamo perché fa molto caldo. Il resto del lavoro lo faremo in tarda serata perché è il periodo migliore per piantare le piantine in quanto la notte comincia a fare più fresco. Piantarla adesso verso le 10 di giorno con questo caldo in questo periodo è veramente rischioso. Se abbiamo fatto la prima parte faremo la seconda parte stasera.